questa è una è un estratto in una partita giocata verso la fine del novecento se non mi sbaglio tra kramnik contro l'eco abbiamo il bianco che sta benissimo cioè un pedone che sta andando a promozione peccato per questi due pedoni doppiati e la sfiga vuole che sono due pedoni doppiati di torre noi sappiamo che purtroppo il pedone di torre aumenta le possibilità di patta in maniera esponenziale in un finale due pedoni doppiati su colonna di torre significano poco il vero problema è questo pedone un pedone sull'ala di donna che può scappare e ovviamente il bianco deve fare attenzione anche a questo pedone la mossa spetta al nero il nero ha il re che praticamente non può muoversi ha una torre passiva perché la torre deve rimanere a guardia dell'ottava traversa perché se un giorno che ne so togli la torre da qualche parte qui ti arriva lo scacco matto quindi una torre passiva una torre si che attacca un po questo pedone che guarda questo però possiamo siamo tutti d'accordo che qui il bianco sta molto bene sta molto bene e guarda un pochettino che tipo di risorsa si inventa il nero una mossa che neanche i motori riescono a vedere prova ad accendere stockfish metti questa posizione accendi stockfish e lui ti consiglierà accendiamolo ti consiglierà torre b2 come prima possibilità torre b4 torre a3 spegniamolo la mossa che viene giocata in partita è invisibile ai motori ma è comunque una mossa che porta al nero ottenere la patta forzata la riesci a vedere? metti anche in pausa il video se vuoi e adesso andiamo a svelare la soluzione qui per calcolarla devi essere un genio cosiddente intellettivo oltre la norma sacrificio di torre in b5 perché questa mossa? se il bianco accetta il sacrificio? se non l'accetta siamo presi il pedone e la partita finisce in parità perché senza questo pedone abbiamo detto che questi due pedoni sono innocui e se il bianco accetta il sacrificio che cosa si fa? riusciamo ad andare a promozione per caso? forse sì forse no in realtà il bianco ha la possibilità di mettersi in d5 facendo interferenza e quindi potendo poi così ottenere qualcosa in cambio cosa ne pensi di questa mossa? perché se adesso vado a promozione che cosa può fare il bianco? il bianco intanto sacrifica la torre sulla regina è vero che così siamo ancora una torre a testa ma il bianco va a dare scacco matto no? perché il re non può più uscire e allora perché il nero fa questa bellissima mossa? perché in realtà la continuazione corretta è la seguente cattura spinta del pedone in d2 torre che dà uno sguardo a questo pedone promozione è la mossa corretta cattura e attenzione amico mio attenzione questa penso che sia la mossa più invisibile non solo ai motori ma anche all'essere umano non riesce a vederla siamo a un livello altissimo la mossa non è torre per di uno ma la mossa è torre di sei scacco ora se catturi la torre la partita finisce per stallo il re nero non può andare da nessuna parte la partita finisce in parità se sei all'inizio del gioco qui sul nostro canale ti faccio comparire qui abbiamo parlato dello stallo a differenza fra lo scacco matto e lo stallo diverse volte questa è una posizione di parità se invece il bianco dopo torre di sei anziché cattura la torre decide non so di scappare con re la partita potrebbe proseguire con torre di uno e questa sappiamo essere come ti dicevo una posizione di patta qui si dà scacco al re lo possiamo continuare a inseguire se vuoi oppure dopo torre g7 cadrà assolutamente questo pedone non so scacco cade in questo modo e con il pedone di torre sappiamo che la posizione è una posizione di parità ok allora io credo che sarà più quasi impossibile utilizzare questo escamotaggio questo stratagemma in una partita ma ho voluto mostrartelo per farti anche capire come anche in un finale con pochi pezzi sulla scacchiera è possibile trovare della tattica e questa tattica ci permette di avere risorse difensive ci permette di pareggiare una partita dove stiamo perdendo perché il nostro avversario è un pedone in fuga quindi cerca ovviamente se hai tempo scacchiera che spesso nei finali ci si arriva sempre a corto di tempo se hai a corto di tempo prova a cercare anche soluzioni strambe un sacrificio di di torre spingo il pedone torre di 5 vado a promozione è obbligato a catturarmi la regina perché se mi cattura la torre grazie tante è obbligato a catturarmi la regina e poi torre di 6 scacco fantastica fantastica fatemi sapere ragazzi che cosa che cosa ne pensate di questa di questa manovra mi penso sia assolutamente geniale e allora noi ci vediamo quindi alla prossima ciao e spero che sia stata una buona lezione